ciao a tutti e tutti ragazzi benvenuti in questo video sarà un video outfit e niente sto uscendo come sembra ho questa maglietta così qui questo scritto qua sopra shopping is my secret love non fate caso alle mani perché è venuto da schifo questo e sotto di pantacollant a vita alta arrivano qui e sotto scarpe nuove scarpe queste qui tipo le converse alte invece erano fighe adesso non so se non si vede tutto il così era solo così le scarpe sì perché se non si poteva vedere e mi sono fatta la coda alta e come trucco non so se si vede se non fate il caso alla mia testa vabbè ma ho fatto una riga di matita e l'ho sfumata bene e ho messo anche la matita dentro alla lima interna e niente ragazzi il video è finito spero che il video vi sia piaciuto perché non stai il fuoco metti a fuoco e che può aspettare che non metta a fuoco mettesse a fuoco e niente non metterò niente sul polso penso e noi ci vediamo al prossimo video vi mando un bacione enorme e alla prossima vi mando un bacione enorme e alla prossima